L'agenzia è PartyArt di San Marco Argentano, abbiamo un negozio PartyArt dove facciamo animazione ai bambini e ci occupiamo di allestimenti palloncini. Comunque chi volesse contattarvi, voi comunque avete una pagina Facebook? La pagina Facebook c'è, oppure la pagina Facebook PartyArt Ballons & More, oppure Fefe PartyArt Martorelli, oppure il nostro numero di cellulare 340-846-169. Quali sono le specialità che vedremo oggi ma quelle che solitamente portate in giro? Allora di solito siamo tanto bravi sui palloncini, poi abbiamo confiabili, facciamo bolle di sapone, qualche mascotte, un po' di tutto dai. Vi spostate perché comunque da San Marco Argentano venirei qua, comunque vi si sposta, cioè avete limiti territoriali oppure vi spostate anche nel Catanzarese piuttosto che nel Cosentino? Adesso stiamo comunque puntando sulla nostra provincia, spero che comunque cresciamo e andiamo comunque oltre. Ultima domanda, come mai hai scelto di intrattenere i bambini? Ti piace un lavoro che hai scoperto come? Allora io l'ho scoperto tramite il palloncino perché ho iniziato a decorare delle cose elementari, dopodiché mi sono appassionato a questo settore, è proprio un settore che me lo sento mio, non posso fare altro, non riesco a fare altro. Fare divertire per te comunque la tua missione nella vita è una cosa che fa divertire anche te. Sì, è peccato che l'ho scoperta tardi e se avessi iniziato comunque a farla da giovane a quest'ora sarei comunque in alto. Va bene, allora dai, buon divertimento perché già i bambini sono all'opera e quindi niente, buon lavoro a te ma anche buon divertimento a te. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie mille, buona serata a tutti.